Torna giù Chiuso, chiuso, bloccato, bloccato Esattamente dall'altra parte c'è uno spawner di rani Passiamo da qua, guarda Vieni, vieni di qua, vieni di qua Cece, vieni di qua Senta anche il silverfish Passiamo da qua, guarda Vedo i blaze, porca vacca i blaze Si, nella stanza di vetro secondo me ci sono i blaze Oddio, oddio mio Non shotate solo Oh, ma il tunnel Oh, ma il tunnel Ha visto i blaze Oh, oh, aspetta Mi ha fatto nero un infarto Sento i blaze Dove sei tu, ci c'è Eh, sto facendo prima cosa Mi sto facendo il fatto? Ecco che non abbiamo materiali Si Mi sono fatto sei pezzi di lana bianca Tanto la lana ce l'abbiamo Oh mio dio C'è, c'è, c'è Vieni a vedere, no, ce c'è Oh mio dio Oh mio dio C'è, c'è, c'è Vieni a vedere, no, ce c'è e anche, no non era neanche un quarto di taglio si ce fai un piccone visto che sei lì, fai un piccone esatto, si 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 oddio oddio, no mi sei rotto il piccone adesso con lo spawner in parte e faccio due? no fanne uno, non sprechiamo per niente bene, ci serve troppo no WTF strano qua? vai giù madame cosa? piccone porca vacca nella lava dio santo cos'è? ah ah il piccone ok il piccone vai a rompere lo spawner che ho trovato nel coso dovresti farlo facilmente cioè non è c'è uno spawner da distruggere? si guarda nel buco che ho fatto a sinistra distruggi solo quello perchè non hai corazza, non hai niente si 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 sa mai che tipo rompi per sbaglio qualche altro blocco e entrino tutti non sai difenderti e siamo fottuti ho sette panini ne prendo su due cibo vero abbiamo ancora le nostre patate e tutto eh abbiamo ancora eh il problema è se devo trovare un blocco di terra sono qua dove stai metto in pausa a parte che potrei anche disconnettermi aspetta mi disconnetto ecco ma no si è buggato si è buggato aiuto mi è apparso un ragno ma no aiuto fanno breccia porca vacca si è buggato c'è una cesta oltretutto lì dai ragni e quindi ho 23 blocchi potremmo anche chiudere tipo accapparrarci la cesta aspetta un attimo che arrivo ci sono hai il piccone? eh no come no? eh c'è un casino cosa è successo? è buggato è buggato? dobbiamo riprenderlo aiuto aiuto ce l'ho oh mio dio ci sono ci sono rientra 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 vai che chiudo vai che chiudo vai che chiudo va bene adesso ho il piccone bene volevo scoprire cosa c'era nel vetro c'è ragni ah c'è ragni ma io sento i blaze qua ma cos'è? questo dovrebbe essere l'altra parte lo spawn ah il piccone me lo passi si ah non ce l'hai visto no no non l'ho fatto poi ho detto preferito l'ordino adesso io chiudo tutto ok ho chiuso qua tipo così dovremmo poter andare su in tranquillità arrivo eh no ci passano ancora ok non ci passano più oh perchè subisco danno? che sta? ceci ho trovato la lana ho trovato la lana c'è un enderman oh ma l'enderman non trova niente eh guarda là in fondo eh guarda là in fondo ragno 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 c'è c'è ragno ragno ho tre cuori, due cuori in mezzo due cuori in mezzo oh sono in mezzo c'è una pala io prendo la pala per coprirmi io prendo le frecce eh prendiamela d'oro prendiamela d'oro dove hai visto la lana scusa? la sinistra guarda è caduto scusami quel cibo no dove dove? aspetta aspetta risali 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 ecco cosa? toh sali c'è ragno dietro c'è del cibo ho delle rotte in flash occhio ragno dietro che è buggato qualcosa aspetta aspetta è delle rotte in flash eh mi servirebbero perché ho due cof shot mi mancano due cof shot e ho mezzo cuore grazie che ho solo la pala adesso ok oddio no c'ho caduto oh mio dio ok ti chiudo i buchi prima che tu ricada nella lava eh occhio occhio che c'è la lava ah quali buchi? come quali buchi? c'è nessuno a bizzeffe ho paura di guardare in faccia l'enderman ma vieni non ti fa niente guarda in terra occhio ai buchi ok roba senti 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 si sono nella stanza in parte aspetta 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 aiuto no no il blaze no il blaze no non ho fatto niente di male non ho fatto niente di male oh ho l'arco panculo blaze vieni qua ahahah non mi prendi no comunque ho bisogno di trovare anche inferno di quelle robe niente di caspita superosa distrutto ho ucciso blaze ho ucciso blaze buona prendi la lana e scappa perchè lana è lana blu oh 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 cosa no pensavo di aver guardato c'è una chest e vabbè arrivo no 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 lascia stare torniamo al monumento torniamo al monumento fanculo ha creato un dungeon how to do it fuck yeah abbiamo preso la lana abbiamo preso la lana adesso tipo creeper silverfish ok no questo dungeon penso solo il terzo che abbiamo fatto è abbastanza difficile si è manco guardate ragazzi non so se siano peggi silverfish i ragni o tutti gli altri messi insieme il blaze non so perchè non l'ho fatto un cazzo ci serve della terra please dateci della terra hai ripreso la mia roba quella che abbiamo ucciso il blaze eeeh no sei caduto nel buco di la ma c'era lava in fondo o no ma io non sono caduto mica nel buco ah no aspetta allora è caduta però la roba aspetta aspetta vado a riprenderla pensavo che ci fosse tipo della lava in fondo ah non c'era un buco c'era solo un blaze che so lì sotto e basta 겉la o aspetta allora va a riprendere c'è uno spawner secondo me però aspetta vado missione Tataratà 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 Eh Enderman però ti devi andare eh E' M qua Ah no è vero? Ah c'è lo spawner di Blaze Cioè mettere lo spawner di Blaze sotto la lana è proprio da cattivi Sì eh infatti non riuscivo a capire se era un Blaze o uno spawner Tutte e due c'era Ok E' ripreso la mia roba Si eh ma avevi il legno, la mela d'oro cosa avevi? Eh la mela d'oro qualche pezzo di legno mi pare qualcosa Ma allora aspetta aspetta un attimo ho una pala tipo andiamo a prenderci quella cesta Rana azzurra Aspetta ho una pala vediamo un attimo solo un attimo Ah no rani velenosi rani velenosi no 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 bruttissima idea Che volano i rani C'è c'è? C'è c'è una mano? C'è c'è una mano magari? Ok è morto Via via andiamocene 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 No io voglio quella cesta Oddio oddio no 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 vattene vattene Arrivo arrivo Dobbiamo equipaggiarci meglio È lana azzurra Si è lana light blue Non è sta... Cioè intanto dire vabbè che abbiamo dovuto affrontare i rani e tutto ma non è stata un po' semplice questa lana Eh, non era ben difesa Però, cioè, caspita Inizialmente è stato difficile Sì, ok, quello siamo d'accordo Aspetta che trasformo il legno Lana blu Lana light blu, dov'è? Eh, ce l'ho io, ce l'ho io Ah, è vicino alla gialla Sì, del legno Dov'è? Vicino alla gialla, dove? Eh, di fianco alla gialla Sì, tre lane Vieni qua, ce ce Ok ragazzi, io direi che per questo video può essere tutto Ringrazio ce ce per la meravigliosa partecipazione Cos'è stato quello? Grazie, grazie, grazie Cos'è stato quello? What? Ok, quindi io ringrazio ce ce per la partecipazione A questo video, se il video vi è piaciuto lasciate un commento Metti mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video Di questa fantastica mappa, bella ragazzi Sì 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 Sono tutti dei, dei verbi Oh, cazzo cos'è Oh, oddio Cos'è? Non lo so, non lo so Cos'ho visto? Ho visto qualcosa Io l'ho visto 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 No, la macchia La macchia Cos'è? È chiusa Cosa? Oh, cazzo, cazzo, cazzo Eh Ehm